Un posto al sole anticipazioni, Nico e Manuela vicini, ma Micaela ha già un piano per separarli. Un'anteprima di un posto al sole lascia intendere che potrebbe esserci un'intimità tra Nico e Manuela nella prossima puntata della SOP di Rai 3. Ma Micaela, decisa a vedere la sorella felice con qualcuno che non si appoggi, interviene. Intenzione di farlo. Cosa sta facendo? Anteprima un posto al sole, Nico e Manuela riuniti, è di nuovo amore? Dopo la pausa estiva, un posto al sole torna con nuove puntate. Il focus della prossima anteprima è la storia tra Nico e Manuela. Dopo la morte di Susanna, Poggi chiuse il suo cuore e non permise nemmeno al gentile Cirillo di avvicinarsi al suo cuore. Ma negli ultimi mesi sembrava che ci fosse un barlume di speranza tra i due, ma il processo all'ero Varsano e le paure che lo perseguitavano hanno spinto Nico ad allontanare Manuela. Cirillo non nasconde il fatto di provare ancora forti i sentimenti per Poggi, ma si stanca della freddezza e delle continue interazioni di Nico, e inizia a chiedersi se sia davvero quello che è. Lungo la strada comparve il fratello minore di speranza, costabile e altieri, affascinante e gentile. Ma rivedere Nico potrebbe farsi che Manuela ripensi al giovane Poggi e gli dia una seconda possibilità. Ma è tutto così semplice? Anteprima di un posto al sole, Michaela salva per separare Nico e Manuela tuttavia, i due non andavano d'accordo con Michaela. Michaela era determinata a liberarsi dal dolore del suo amore per Poggi e vedere felice la sua sorella gemella. Dopo un'interessante conversazione con Serena, le gemelle di Manuela finiscono per prendere una decisione importante. A tal fine elaborerà un proprio piano, coinvolgendo anche Costabile, per separare Nico e Manuela una volta per tutte. Nonostante le preoccupazioni della sorella, Cirillo in realtà ha capito che Manuela e altieri erano particolarmente attratti l'uno dall'altro e che i due potevano essere perfetti insieme. Non vediamo nell'anteprima cosa pensa Cirillo, ma unirà il suo entusiasmo alle sue idee. Tramma è anteprima un posto al sole, Nico, Manuela e Costabile, un triangolo amoroso sta arrivando. L'incontro con Costabile è stato per Manuela una boccata d'aria fresca e le ha fatto credere che avrebbe potuto innamorarsi di nuovo anche dopo Nico e le sue continue delusioni. Cirillo però si rende presto conto che i suoi sentimenti per Poggi non sono del tutto svaniti, anche a causa della gelosia di Nico dopo averlo visto con Costabile. Il ricongiungimento con il giovane avvocato sarà per Manuela un'ulteriore conferma che i suoi sentimenti non sono ancora cambiati, ma la presenza di altieri potrebbe cambiare tutto. Costabile si dimostrerà finalmente l'uomo giusto per Manuela? L'anteprima non dice nulla al riguardo, tranne che presto vedremo un triangolo tra Nico, Manuela e Costabile. Chi sceglierà alla fine Cirillo? L'anteprima non dice nulla al riguardo, non dice nulla al riguardo. L'anteprima non dice nulla al riguardo, non dice nulla al riguardo.